Quando troviamo qualcosa che ci fa battere il cuore, qualcosa di unico, di nostro, non dovremmo poterci dire facciamolo e basta. Perché se pensiamo che i soldi, i soldi, siano la cosa di cui preoccuparci di più, finiamo per rincorrere qualcosa che costa, invece di qualcosa che vale. Magari, se smettiamo di preoccuparci, cominciamo a sentirci più liberi. Grazie.